La Cantarelli, storico marchio tessile Aretino, passa in affitto nelle mani di Richmart. Si attende ancora il comunicato ufficiale dei curatori fallimentari, ma sette mesi dal fallimento e il conseguente stop della produzione, la realtà Aretina sarebbe stata assegnata in affitto all'azienda bulgara. Attendiamo di conoscere quelle che sono le intenzioni dell'imprenditore che sembra si sia giudicato l'affitto di questa azienda e attendiamo di conoscerle in particolar modo in relazione a quello che ci sta più a cuore, cioè il recupero occupazionale che è il primo pensiero della nostra organizzazione sindacale. Indipendentemente da quello che potrà essere il destino di questa operazione, quello che noi ci sentiamo di dire in questo momento è che la cosa più importante sarebbe continuare a produrre su questo territorio e continuare a produrre con quelle persone che hanno dovuto abbandonare loro malgrado il lavoro definitivamente con la dichiarazione di fallimento. Il bando per l'assegnazione dell'affitto di un anno con diritto di prelazione per la vendita dell'azienda era stato pubblicato lo scorso novembre, ieri sono state aperte le buste con le offerte. Il disciplinare della gara prevede oltre all'affitto 60.000 euro anticipati, l'acquisto dei capi di magazzino e delle stoffe, l'assunzione di almeno tre ex dipendenti con l'impegno ad occuparne altri ed infine un piano industriale. Tendiamo di conoscere la definitività dell'assegnazione, una volta arrivata la definitività dell'assegnazione, le intenzioni del nuovo imprenditore. L'azienda bulgara specializzata nel vestiario per uomo aveva già tentato il salvataggio di Cantarelli durante l'amministrazione straordinaria. In quel caso però Richmart si muoveva assieme ad Anton Giulio Pacenti.